si 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 però non si può in questo sport quindi fai tutto capito non è che si può far come nel bimbo che lo fai fate tutto questo che cosa è successo cosa è successo che cosa è successo bravo bravo non mi sono lasciato le mani ma a me che correre più la nasci dopo perché sennò la tiriamo una sennò prima che l'altra è il tuo bestiere questo eccolo ferma ferma bravo bravo togli chi dà l'amantica delle camera è partita bella specionata bello 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 dai provati tocca non pichi tocca bravo bravo vai sala chiaramente è proprio quello che va bene sala secondo me adesso Thomas non vuole direttamente Thomas non vuole direttamente e fai il cambio con Thomas a lanciare la pallia sii quando sei stupor tu hai giocato Thomas è una notizia che me si può non 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 il mio quanto ora? questa è da mancina è una giochetta? è un po' 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 qui in quanto ora? me lo ho messo a piacere eh sì Giorgia adesso mi chiede come al fattuto oh diro non c'è mai da 5 volte di andare dai 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 Così, da pedofilo. Ah, adesso c'è questo. 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 ma ti tocca? la scossa dov'è l'ordine non c'è più? la scossa eh no, flibio bravo Sam, bravo cosa fa dopo? no, scossa è una bella mina ah, tre chi là eh, non lo guarda ma dove stanno? ma dove stanno? ma dove stanno? ma dove stanno? si, si, la fa tre mi ha tirato le mani e si fa dopo due ecco oh, si aspetta quella bella, dai non ci vuole dai, dai dai, dai ecco ma dove stanno andando? ma i rara dai 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 non lo so dai 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 non è questo dai lupi va bene la prima mai fermati fermati sei tu cesare bravo siamo mister non ci deludare stai facendo il video era corta a scogliere le tontine per terra vai falli vai falli a scogliere le tontine per una volta curro che non fai mai niente a scogliere le tontine per una volta a scogliere le tontine per una volta la posizione di base di minato a scogliere le tontine per una volta a scogliere le tontine per una volta a lupi a lupi a lupi ... ... ... ... ... ... Grazie. Buona, c'è importante eh? Silenzio. 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 Obrigado. Bravo, Boccia, bravo. Mostrar la mano. Nooooo, la già cerca. Se hai data cerca, la... stai beccando boccia sei un beccalone ritmo ホント la 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 Grazie a tutti.